Quarto compleanno di Senza Barcode, ospiti specialissimi. Oggi è il primo giorno di questa nostra manifestazione e siamo con Samantha Di Persio e il suo bellissimo libro L'amore non fa differenza. È un sottotitolo molto chiaro e secco, vorrei dire. Sono gay e amo. È un libro importante, è un libro che ha già partecipato a una delle trasmissioni di Radio Radicale. Ne abbiamo accennato anche prima, quando c'è stato il dibattito proprio sul diritto di famiglia nelle nuove frontiere dell'Unione Europea. Ringrazio Liberi TV che come nostro media patron oggi ci sta seguendo e ci seguirà anche domani. Samantha è venuta da noi oggi qua a Roma dall'Aquila. Abbiamo tantissime cose da parlare insieme perché i tuoi libri sono veramente importanti e libri molto affini a Senza Barcode. Noi ci occupiamo di diritti, diritti civili, dal diritto degli omosessuali, diritto dei lavoratori, ma anche un libro meraviglioso si intitola La pena di morte italiana. Parleremo di tutto. Prima di parlare di questo libro però presentiamo Samantha. Samantha è la persona, noi sappiamo che sei una blogger, una scrittrice, scrivi anche per l'Huffington Post, però una persona così sensibile che affronta questi temi, in realtà chi è? Chi è Samantha Di Persio? Queste domande sono a trabocchetto perché uno viene qui per presentare il libro e si ritrova ad una seduta di psicoanalisi. No, scherzo. Io iniziai a scrivere nel 2004-2005 proprio sul tema che ricordavi tu sui diritti dei lavoratori perché mi sono laureata e poi finita la laurea si cerca il lavoro e nessuno ti dice quante difficoltà ci sono. Nel percorso di studi questo non si affronta mai e quindi da queste difficoltà ho iniziato a occuparmi di lavoro, fin poi ad arrivare al fatto che non c'era un libro sugli infortuni sul lavoro, quindi sicuramente sono una persona curiosa che va appunto a cercare le informazioni, che si informa, con le difficoltà che poi ci sono per informarsi. Infatti mi ricordo in una presentazione in una scuola i ragazzi chiedevano proprio ma noi come facciamo ad informarci perché troviamo tantissime informazioni e poi non sappiamo quelle che sono vere. Quindi in realtà è stato questo il motivo che mi ha spinto a scrivere e poi appunto sono nati ben cinque libri. Quindi ovviamente prima di essere blogger, scrittrice e come ricordavo prima ho un lavoro normale, normalissimo, anzi ne ho due e qualcuno mi dice non lo dire che ne hai due perché è troppo difficile però insomma io dico sempre sì due ma alla fine lo stipagno non è neanche uno, quindi è una persona normalissima. Allora io ho preparato un sacco di domande per te però mi piace l'idea di poterci presentare, di fare questa presentazione del tuo libro agli amici di Senza Barcode di Liberi TV anche come se fossimo amiche da tanto tempo. In realtà noi ci sentiamo già da un po' perché sei stata ospite anche di Radio Radicale e hai parlato di questo libro. Una domanda difficile come l'altra perché sei preparata quindi si può fare. Quando ho iniziato a parlare del tuo libro qualcuno mi ha detto un altro discorso sui gay come se per qualcuno se ne parlasse troppo. Quello che ho apprezzato molto del tuo libro che tu fai parlare persone che in un modo o nell'altro vivono la situazione e non è la situazione l'essere gay ma è l'affrontare una società che ha paura di troppe cose tra le quali la differenza. Hai avuto difficoltà a parlare con le persone e soprattutto perché questo libro? Altro trabocchetto perché le domande sono più di una. Comunque, allora iniziamo dal perché. Ci sono stati due avvenimenti nella mia vita che mi hanno convinta a scrivere questo libro. Il primo ero a cena con un'amica in un locale dove forse le premesse dovevano un po' avvisarci. C'erano immaginette di Mussolini dappertutto però avevano detto che si mangiava bene. Si mangiava bene. Vero? Ad un certo punto al tavolo accanto dove c'erano due signori dell'età dei miei genitori, quindi adulte, persone adulte iniziano a maliziare sul fatto che potessimo essere lesbiche ma non è il fatto di maliziare sulla cosa perché non è quello. Quello che mi ha colpito è che persone adulte, quindi insomma formate con una certa formazione che dovrebbero avere una certa cultura, esatto, in maniera proprio cattiva avessero iniziato insomma a schernirci in quel modo. Quindi quello è stato il primo fatto. Il secondo fatto invece secondo me è stato determinante. Un mio amico omosessuale collaborava con una persona, un insegnante e se tu hai letto il libro sai perfettamente quanto stimo gli insegnanti perché dovrebbero insegnare proprio quel concetto di non discriminare, quindi di accettazione di tutte le diversità. E questo insegnante una volta, il giorno stesso, il momento in cui ha scoperto che questo ragazzo era omosessuale praticamente passa una ragazza e gli dice perché non ti fidanzi con quella ragazza? Quindi è proprio la brutalità perché alla fine in quel caso non era neanche amore era proprio il fatto di essere omosessuale e io in quel momento ti dico che tu non lo devi essere più quindi ti devi fidanzare con chiunque. In quel momento questo ragazzo io colsi sul suo volto proprio la delusione, il dolore, la sofferenza e poi successivamente poi tutta una serie di altri sentimenti perché fu allontanato e non collabora più con questa persona. E da lì ho voluto approfondire questa situazione. Quindi non è un altro libro sugli omosessuali perché in realtà poi non ce ne sono così tanti forse ci sono più libri sui vari personaggi famosi piuttosto che, non so, su Valeria Marini, la biografia di Valeria Marini piuttosto che le difficoltà che hanno le persone perché, come dicevi tu, il libro è in prima persona, ogni testimonianza è in prima persona proprio per immedesimarsi nei sentimenti, nelle emozioni di chi racconta e anche tutti gli altri libri sono così. Quindi è proprio raccontare le difficoltà che si hanno nella società. I veri inchiesti. Sì, i veri inchiesti. Una delle prime cose che mi è venuta in mente quando hai iniziato a parlare è che, sì, essere gay e lesbica sembra quasi ancora essere infettivo, una malattia che ti trasmetti. Una cosa che mi hai insegnato tu con il tuo libro, mi hai insegnato a dividere l'amore dall'atto sessuale. Mi sono resa conto che molto e troppo spesso i gay vengono etichettati perché c'è l'immagine dell'atto sessuale tra due uomini e due donne. Anna, mi pare, la psicologa, e il tuo libro mi hanno fatto capire che l'amore non fa differenza. sembra un titolo forte e lasciato così per caso, invece è l'ultima parola che dici alla fine del tuo libro. Dici questo, ma lo dice chi legge perché lo sente veramente. Io amo molto i libri inchiesta, mi piacciono le persone che vanno a cercare la verità. e so cosa mi ha lasciato questo libro, appunto, mi ha lasciato una sensazione amara perché le persone soffrono ancora per queste banalità, perché per me sono ancora banalità, e mi ha insegnato che l'amore non fa differenza, l'amore non è l'atto sessuale. Ma Samantha di Persio, cosa ha lasciato questo libro? Questo libro nasce prima della legge del riconoscimento delle coppie dell'Unione Civili e l'obiettivo ovviamente era mostrare anche la retratezza dell'Italia che anche con questa legge ovviamente era sta indietro rispetto all'Europa quindi prima si parlava di diritti per avvicinarsi all'Europa ma in realtà noi non ci avviciniamo minimamente a certi paesi a democrazia avanzata e quello che comunque mi ha fatto riflettere sono le persone che mi hanno detto no perché quando si cercano le testimonianze magari tu hai un'idea, vorresti, non so io avevo trovato un professore, una maestra, quindi era interessante sentire anche la loro voce poi persone che magari su Facebook pubblicano le loro foto con la loro compagna però mi sono sentita dire di no per problemi sul lavoro quindi per paura di ritorzioni sul lavoro perché non è così semplice oppure altre persone mi hanno detto no, io in realtà sì sono omosessuale ma ancora non ho fatto outing infatti nel libro ci sono persone che hanno pianto mentre mi raccontavano perché era la prima volta che ne parlavano quindi ripercorrere dall'infanzia all'adolescenza fin poi all'età adulta ed è stato emozionante, è stato bello e anche da soddisfazione perché è bello sentire delle persone che ti dicono una cosa del genere e infatti la testimonianza che citavi tu Anna che è un nome di fantasia proprio perché è una psicologa e quindi insomma la paura c'è lei ha veramente un percorso molto molto interessante magari Barbara potrebbe leggerci un pezzettino perché abbiamo anche questa possibilità a Barbara Bologna un pezzo da leggere di questo libro hai scelto tu la tua amica e secondo me è molto bello perché vuol dire che è una persona che ha compreso anche il tuo libro poi ti farò altre domande però dopo ne parliamo perché comunque riguardano anche quello che dice Anna nel libro grazie Barbara da piccola ogni tanto e parlo di quando avevo 9 o 10 anni mi prendevano delle fitte forti al petto che ora identifico perfettamente come ansia perché pensavo oddio ma io avevo un problema qual era cercavo di fare mente locale perché quando mi sentivo felice o spensierata come ogni bambino dovrebbe sentirsi dimenticavo gran parte dei miei problemi ah no il problema era che mi piace Giulia ma nessuno lo sa quindi nessuno potrà sgridarmi per questo ai tempi ero convinta che fosse solo un mio modo di essere non qualcosa che esisteva nel mondo ero convinta che questo problema potevo gestirlo in gran segreto perché tanto nella realtà nessuno potrebbe davvero vivere una storia d'amore così con una persona del suo stesso sesso ed è stato così per molti anni tra Viola e Marco tra Elisa e Paolo grandi amori della mia infanzia tra Sara ed Emanuele confusa ma nemmeno molto ero convinta di non poterle amare le donne quindi le portavo nel mio cuore mentre conoscevo mi avvicinavo a volte mi invaghivo dell'altro sesso tutto questo fino a che non sono entrata in adolescenza con una famiglia sempre più complicante e una forte necessità inconsapevole di uscire dal guscio di esprimermi, di fare esperienza, di vivere a pensarci oggi mi sembra un pensiero così tenero ero davvero convinta di poter vivere così con i miei segreti per tutta la vita che sciocchezza penso a chi è adulto consapevole questa prigionia nel segreto se la sceglie non vorrei essere irrispettosa ma che pena che scelta insensata che punizione grazie lo hai letto proprio come l'ho sentito io quindi capisco ancora di più perché Samantha ha scelto te per questa lettura facevo notare a Samantha che io avevo il libro aperto alla stessa pagina quindi brava sei arrivato veramente dove volevi arrivare c'è un altro punto che mi ha molto colpito e forse proprio di Anna ma non ne sono sicura dice i primi a trattarci male a essere contro i gay contro gli omosessuali siamo stati noi quando cercavamo di reprimere le nostre emozioni è fortissima come frase perché se uno ci ragiona è una violenza che uno fa a se stesso per colpa della società per colpa non lo so della famiglia ma è vero è così per tutti o meno per quelli che tu hai intervistato non è Anna la testimonianza a cui fa riferimento ma è la testimonianza che sta più a cuore invece a Barbara perché è la testimonianza di Flaminia infatti lei dice sempre che il libro secondo lei il nocciolo è un po' quella testimonianza il cuore del libro proprio perché parliamo di donne di una donna adulta che insomma ha vissuto tutto una discriminazione forte perché insomma negli anni 70 lei era giova era piena della sua giovinezza quindi non era così semplice potersi manifestare e lei dice questo che forse i primi ad un certo a porsi dei limiti come dicevi tu a discriminarsi siamo noi perché ci facciamo tutta una serie di restrizioni pensando che poi gli altri forse quello è il primo scoglio da superare quindi superato quello scoglio è infatti nella prefazione di Leonardo Don Giovanni segretario dell'Arciglia dell'Aquila che dice quello io facevo una domanda a tutti gli intervistati quando è che hai capito di essere omosessuale e lui dice no non è che tu lo capisci la consapevolezza in realtà è la domanda che faceva sì e lui dice ma in realtà quella è una cosa che tu lo sai lo sai da sempre e infatti lui dice questo dubito ci sia un momento denominato della consapevolezza invece c'è da considerare un punto di partenza per ciò che concerne l'accettazione verso se stessi e verso il mondo quindi è proprio l'accettarsi lo scoglio il momento da superare e poi da quel momento in poi ti senti insomma libero ti senti più forte e giustamente sei anche pronto ad affrontare gli altri quindi sì questo è un aspetto molto molto interessante e infatti molto spesso anche quando si conoscono persone omosessuali ancora oggi perché in realtà non è così semplice io l'altro ieri ho ricevuto una lettera di una ragazza che insomma i genitori della sua fidanzata le hanno imposto di lasciarsi le hanno fatte fidanzare con un ragazzo quindi questo non è che assolutamente sì ancora esistono queste cose quindi insomma non è che una legge cambia le cose cioè purtroppo ci serve proprio un lavoro io penso scuola innanzitutto di spiegare le diversità perché qui non si tratta di accettare le diversità ma proprio di spiegare che il mondo è fatto in tanti modi e quindi ci sono tante forme differenti anche di amore una domanda veloce hai trovato differenza nelle varie parti d'Italia nord, sud, centro c'è una differenza nella cultura e nell'approccio? sì probabilmente sì c'è una differenza infatti molte persone del sud omosessuali si spostano si spostano al nord perché c'è un retaggio culturale che che c'è non non posso dire no non è vero e infatti anche la ragazza che mi ha scritto qualche giorno fa era comunque una persona del sud Italia però le difficoltà ci sono perché anche a Roma l'altro giorno c'è stato un pestaggio anche nelle grandi città dove si pensa siano grandi quindi c'è ci sono tante persone ci sono tante culture tante diversità invece poi non è così semplice proprio su questo pestaggio diciamo sulla violenza fisica che subiscono tu apri il libro con una serie di di racconti e la consapevolezza sono due due aspetti molto importanti secondo me altre chiavi di lettura del tuo libro perché alla fine del tuo libro io mi sono posta questa mi sono detta l'amore non fa differenza ora l'ho capito la consapevolezza che ho acquisito io però è comunque superficiale se vogliamo perché la vera consapevolezza è quella delle persone interessate ora mi chiedo e mi sono chiesta chi è così stupido cattivo da fare violenza alle persone ha soltanto un problema di cultura e di consapevolezza o c'è dell'altro perché tu dedichi forse quattro pagine iniziali a vari racconti a vari ritagli di giornale che parlano di queste violenze ma non basterebbe un tomo e ogni giorno vanno ad aumentare è un virus è una malattia questa cattiveria fra l'altro anche qui vorrei far leggere dopo un pezzo a Barbara proprio su un fatto avvenuto a Roma di un pestaggio il discorso è complesso cioè la risposta insomma meriterebbe veramente un'intera giornata perché dovremmo partire dal presupposto che forse l'Italia è un paese razzista anzi non forse sicuramente l'Italia è un paese razzista questo ce lo dicono le statistiche anche statistiche pubblicate dall'Espresso commissionate dalla Commissione Europea quindi quello che emerge è questo del resto le donne vengono uccise tutti i giorni quindi c'è un problema proprio di di accettazione dell'altro e del diverso che si trasforma poi in questa violenza nel momento in cui io non accetto la tua diversità non accetto questo inono che vogliamo a qualcosa che pensi sia quella la cosa giusta perché ti viene detto da una religione piuttosto che pensi che debba essere così perché da sempre ti è stato detto che è così quindi insomma innanzitutto questo e poi la politica non ci aiuta insomma ci sono dichiarazioni di esponenti del Parlamento che sono pesanti sono forti dove quando si deve apostrofare una persona tu già dal linguaggio linguaggio razzista usi determinate parole perché sai perfettamente che quelle parole feriscono di più fanno più male e chi sente a casa si sente in un certo senso legittimato a poter utilizzare quel linguaggio e quella violenza quindi si tratta di una violenza prima verbale e successivamente poi arriva anche la violenza fisica magari se Barbara vuole leggere quel pezzetto sì praticamente si tratta di un di un pestaggio avvenuto proprio qui a Roma all'interno del festeggiamento che la festa arcobaleno quindi era un'iniziativa proprio per promuovere per informare sul sull'omosessualità quindi tutta una serie di diritti sull'omosessualità arrivati infine alla fine della settimana degli eventi mi è capitata una cosa che non avevo mai vissuto fino ad allora al termine della serata mentre tornavo verso casa ho subito un'aggressione che non esito a definire squadrista quattro persone mi hanno rincorso e percosso a pugni e calci mentre recuperavo la mia automobile dopo un brevissimo passaggio in quella che si definisce una zona abitualmente frequentata da omosessuali l'esito è stato abbastanza pesante due costole di una parete cartilaginea del naso fratturate una ferita in testa sotturata con alcuni punti lesioni all'occhio destro tuttora in fase di recupero un'esperienza che mi ha segnato molto ma che mi ha spinto a proseguire con maggiore intensità il mio impegno nella causa lgbtqi consapevole della pubblicità e del senso che avrebbe avuto il mio gesto ho trasformato immediatamente la mia aggressione in un fatto pubblico e politico il mio selfie al pronto soccorso con i segni delle percosse sul volto si vedeva addirittura l'impronta del disegno di una suola segnata con le echimosi sulla fronte ha fatto in poche ore il giro del mondo ed è diventata una sorta di icona affiancata a quella delle altre persone aggredite nella stessa settimana che hanno scelto anche loro di rendere pubblica la loro aggressione fa male fa veramente tanto male perché perché è vero perché succede ogni giorno perché potremmo essere ognuno di noi prima di farti la classica domanda su cosa vorrei fare da grande ho pensato tanto dopo il tuo libro e ho pensato anche a me mi sono chiesta forse è giusto che ogni persona un giorno si interroghi sulla propria sessualità io l'ho fatto questo discorso penso che forse noi noi ragazze siamo più portate a farci questa questa domanda mi sono risposta e sono felicemente sposata ancora dopo questa domanda ma secondo te le persone che hanno questa consapevolezza cioè che hanno fatto questo discorso questo lavoro interno oggi sono persone più concrete sono persone più solide ma questo insomma bisognerebbe poi emerge dalle testimonianze quindi bisognerebbe proprio leggere conoscere ascoltare le persone che hanno avuto questo percorso sicuramente sì perché nel momento in cui ci si riesce a liberare a poter dire ai tuoi genitori ai tuoi amici a tutto il mondo io sono omosessuale sono felice di esserlo voglio innamorarmi di una persona del mio stesso sesso quindi mettetevi l'anima in pace insomma quindi sicuramente sono ad un certo punto trovano la loro felicità perché non poterlo esprimere significa comunque essere repressi significa stare male significa tutta una serie di cose che non puoi fare viene detto nel libro mi sono stufata di dire di andare a cena con i colleghi di lavoro e di dire questa è un'amica questa è mia cugina oppure nel libro c'è una coppia di Davide e Luciano che loro hanno adottato no non è vero non li hanno adottati ma attraverso la fecondazione assistita e ovviamente in America non in Italia e hanno due gemelli e quindi loro ad un certo punto dicono basta ci siamo stufati di dire no la mamma oggi non c'è no sono i nostri figli punto perché è anche assurdo andare a trovare delle scuse arrampicarsi sugli specchi e invece è anche molto bello se tu lo dicevi prima le conclusioni quello che poi sono andata a cercare quindi l'opinione di un sacerdote di Don Marco ed è un messaggio bellissimo quello che lui lascia che sono contenta anche di essere riuscita a strappargli e magari Barbara può leggere perché è un'apertura della chiesa che purtroppo ancora non c'è ma non c'è perché ovviamente chi conta non vuole vedere però poi ci sono appunto sacerdoti come Don Marco che ti lasciano questi messaggi di speranza anche che appunto può cambiare qualcosa cioè perché c'è una frase molto bella appunto lui dice la chiesa deve capire che i gay salveranno la chiesa cioè la nostra esistenza esatto mi hanno sempre infastidito le etichette come quel giorno che camminando insieme ad altri tre preti su via nazionale a Roma riconosciuti per il colletto venimmo indicati da un gruppetto di adulti così guarda quel bel gruppo di pedofili a piede libero quando patisci il dito puntato altrui solo perché risulti appartenere ad una categoria senti la ferita di un'ingiustizia profonda perché nessuno coincide con alcuna categoria ogni storia ogni nome ha un valore sacro che tantomeno l'appartenenza ad una categoria sia essa sociale professionale religiosa o legata ad un orientamento sessuale può diminuire il giorno in cui potremmo dire di aver scontato si potrà mai arrivare davvero a farlo tutta la sofferenza che abbiamo creato per aver puntato il dito contro gli altri per le discriminazioni alle quali in nome di valori non negoziabili abbiamo condannato le persone per una loro condizione di vita allora forse quel giorno potremo tornare a dialogare con maggiore credibilità e rispetto sulle questioni che ci stanno a cuore e che riteniamo importanti per il bene di una comunità ma c'è metodo e metodo c'è stile e stile nell'affrontare una questione dei diritti sia nel chiederli sia nell'accogliere o respingere la richiesta ho l'impressione che il delicato tema dei diritti civili per le persone e coppie omosessuali non possa essere affrontato a prescindere da un metodo che ha ancora tutto da recuperare penso da cattolico che su questo punto la pedagogia di Gesù di Nazareth abbia molto da insegnare ai cristiani benpensanti tra i quali e mi ci metto anch'io si può annidare la versione contemporanea di quella farisia farisaica scusate presunzione di essere dalla parte giusta che faceva perdere la pazienza allo stesso Gesù Gesù cercava le persone non i loro orientamenti non le loro idee non le loro convinzioni ricordo soprattutto quell'incontro con la donna samaritana che gli ebrei discriminavano e chiamavano cane e che lo stesso Gesù sembrò inizialmente trattare male con pregiudizio ma lei fece il suo bel samaritan pride mi si perdoni l'ironico accostamento ma si rilegga la faccia tosta di quella donna nell'ostentare il suo diritto a essere ascoltata in Matteo 15 21-28 e Gesù si lasciò cambiare da questa donna diversa spudorata e di fatto diventò diverso pure lui è stato abbattuto un muro nel cuore di entrambi grazie anche a nome nostro te Barbara che leggi fai teatro immagino qualcosa del genere poi c'è Alessandro Simonini che ti aspetta al barco di Senza Barcosa dove tiene una rubrica meravigliosa che ti consiglio di frequentare grazie a te Samantha che hai raccolto questa e le altre testimonianze sulla scorta di quello che dicevamo prima mi chiedevo chissà quante persone forse magari troppo tardi si renderanno conto che non è quello che vogliono stare con una persona dell'altro sesso la consapevolezza forse arriverà tardi per loro allora io ti ringrazio di essere stata qui con noi ti chiedo cosa farai da grande cosa vorresti fare da grande cosa hai nel cassetto e l'ultima domanda te la devo fare il tuo libro nel cuore di questi cinque che hai scritto che domande cattive i miei libri io dico sempre che sono le mie creature i miei figli quindi è abbio che per me sono tutti uguali mi appartengono tutti e cinque qualcuno dice che l'ultimo è più bello perché forse è meno duro degli altri perché insomma i temi affrontati sono difficili sono delicati e ovviamente rappresentano una realtà del paese triste perché in realtà è questo e da grande me lo domando anch'io cosa voglio fare non so ci sono un po' di idee ci sono un po' di idee e vediamo se avrò il tempo perché come dicevo prima non è semplice adesso sta rivolando a qualcosa? no nello specifico no allora se partorisci qualcosa faccelo sapere a Senza Barcode al Libri TV se qualcuno vuole fare una domanda a Samantha ce l'avete qua le domande sono cattive prego Valentina Angela Stella no a me è piaciuta la parte del prete la prima per quanto riguarda l'etichetta a noi non piacciono le etichette quindi ti chiedevo perché il sottotitolo sono gay e amo perché specificare sempre il fatto che si parli di gay cioè quanto sia producente o autoproducente spiegare fare la premessa sono gay e la seconda parte del discorso del prete riguardo la samaritana parlava della questa donna spudorata mi ha fatto cambiare una cosa che io ritengo molto spudorata che a me personalmente non piace non condivido perché secondo me politicamente non arriva dove dovrebbe arrivare è il gay pride per me il gay pride è una carnevalata che culturalmente secondo me non avvicina non è il mondo dei gay a quel mondo che non lo conosce ma è controproducente quindi ti chiedo secondo te quanto può essere culturalmente politicamente necessario ancora dire di essere gay e dirlo come fanno agli pride si vedono i miei amici si riconoscono allora io parto dal presupposto vi dico il mio primo post che fu pubblicato era un post no allora parto da un altro mi ricordo che scrissi un post invece sul mio blog per attirare lettori e scrissi Mara Carfagna morirà di non lavoro vabbè voi ridete ridete perché vi ha colpito questo titolo no e infatti non vi dico quanti click per aver scritto la cosa del genere ma l'articolo parlava di tutt'altro cioè parlava proprio degli infortuni sul lavoro quindi di chi muore sul lavoro quindi se non si usano determinate provocazioni non si arriva perché se andassimo al gay pride vestiti con t-shirt e jeans probabilmente ah ma chissà questi forse sono gli operai dell'ilba che manifestano quindi non è una carnevalata è proprio un modo per aumentare l'attenzione per dire guardate noi ci siamo dobbiamo fare questo affinché voi vi accorgiate di noi è semplicemente questo certo ormai si potrà protrae nel tempo quindi probabilmente non ci sarebbe neanche più bisogno però è questo il motivo cioè provocando aumentando quindi la provocazione al massimo si riesce arrivare di più sono gay e amo perché ho voluto proprio io rimarcarlo perché l'amore non fa differenza qualcuno mi dice no ma l'amore dovrebbe non fare fare la differenza insomma c'è sempre chi la vuole in un modo e chi in un altro quindi io l'ho voluto proprio rimarcare affinché fosse chiaro il concetto sono gay e amo quindi tu che non accetti la mia omosessualità cioè fatta in una ragione in realtà è questo cioè il titolo non è per chi non discrimina per chi non ha problemi insomma in questo senso ecco perché l'ho voluto rimarcare ma non perché era la condizione no? quindi del gay no no è proprio perché poi uno immagina sempre che il libro venga letto da persone per capire ad esempio mi ricordo mi ha contattato e credo sia proprio la soddisfazione più grande una madre dicendomi che voleva questo libro per la figlia che stava attraversando un periodo era adolescente quindi di confusione quindi lei mi disse vorrei insomma darle il tuo libro perché ho cercato libri e non ho trovato insomma quelli che potessero andare bene per mia figlia quindi poi dipende anche da come vuoi comunicare con chi deve acquistare il libro C'è una tale Serenetta Monti Sì io Samantha la conosco da tanto quindi conosco la sua sensibilità su tante tematiche non l'ho ancora letto il libro ma già da quello che è stato detto qui non vedo l'ora quello che volevo chiederti oggi Samantha è l'Italia è un paese strano tu sei riuscita ad avere una posizione veramente avanguardista di un prete che invece vive in una situazione dello Stato attaccato a noi che sta proprio dietro l'angolo di Roma dentro Roma che sono secoli che invece discrimina tante categorie basta pensare pure solo alle streghe con l'inquisizione quindi quanto è importante invece la posizione di un insegnante l'educazione nelle scuole quindi cominciare al più presto perché parallelamente i bambini vanno a catechismo quindi vivono di riflesso una posizione netta rispetto a certe tematiche nonostante ci sia la frase più importante della religione cattolica che ama il prossimo tu come te stesso però poi c'è lo Stato laico che dovrebbe fornire una scuola dovrebbe dare delle indicazioni che appunto portino al rispetto verso tutti senza discriminare secondo te ci siamo in Italia ci arriveremo che cosa si può fare un'altra mia questa è pure amica mia però questo è il dramma è una domanda difficile perché purtroppo non avendo una direttiva unica per tutti dipende dall'insegnante la bontà dell'insegnante perché ad esempio in Veneto non so se tu ti ricordi la città forse Verona il sindaco aveva vietato la lettura dei libri nelle scuole dell'infanzia proprio no questo l'anno scorso è successo quindi aveva vietato alcuni libri per l'infanzia ma dei libri che treviso ok ma dei libri bellissimi che non si trattava di cioè dalla famiglia che poteva essere composta da due madri due papà ma addirittura di una bambina che aveva tutta una serie di difficoltà perché aveva le orecchie a sventola aveva il calzino bucato utilizzava una gonna che sembrava una tovaglia quindi che aiutavano invece i bambini a non discriminare a dire ma perché quella bambina viene con un vestito che non è nuovo quindi erano veramente di supporto ma proprio per arrivare a quel discorso lì di non discriminare nessuno e quindi di accettare tutte le diversità che ci sono perché non siamo tutti uguali non abbiamo tutti la stessa possibilità tutti le stesse possibilità nel libro che poi è l'autore della copertina del disegno che secondo me è bellissimo è un insegnante di arte e lui insomma un tipo particolare perché immaginatevi un professore con i capelli rosa e insomma è dura andare a scuola così no? e lui un giorno portò il giornale insegnava qui a Roma ancora e parlò di omosessualità i ragazzi alcuni dicevano no è contro natura ma no Dio ha creato l'uomo e la donna ovviamente ragazzi di 13 anni l'hanno sentito da qualcuno perché magari è catechismo per dire oltre che in famiglia il giorno dopo accade una cosa stranissima viene chiamato dalla preside perché i genitori si sono lamentati pensando che il loro professore fosse gay e la risposta della preside è io l'ho riassicurato perché ho detto che l'è felicemente sposato comunque non accompagnerà più i ragazzi in gita quindi quindi ecco perché dico dipende poi è individuale no? è sempre purtroppo siamo fatti di persone ci sono le persone buone e le persone cattive il problema è questo che non non c'è appunto una direttiva bisogna essere insegnanti in questo modo no è sempre alla libertà dell'individuo eh bisognerebbe parlarne per ore di questo argomento ora so che i libri di tv Gianni Colazzioni ti vogliono fare un'intervista tutto tondo anche sugli altri tuoi libri quindi preparati perché anche lui è amico mio fa domande cattivissime quindi sei sei rovinata per questa sera io vi invito a leggere L'amore non fa differenza perché al di là della capacità di Samantha di scriverlo meglio che in questo libro anche se sei una scrittrice perché anche un libro come questo ti rende una scrittrice è importante quanto vi farà ragionare ma anche su voi stessi se siete abbastanza umili ragionerete anche su voi stessi quindi grazie Samantha di Persio grazie a Barbara Bologna grazie a tutti voi grazie LibriTV a presto a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti